Efficace ma amatoriale sono le valutazioni preliminari dell'intelligence statunitense sull'attacco ai profili Twitter di personaggi di alto profilo che ha costretto il social network a bloccare per ore gli account verificati, compreso quello del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti Joe Biden. La prima impressione degli inquirenti è che si sia trattato di un tentativo di una maxitruffa legata al bitcoin che si è tradotta nell'accheraggio degli account di molti altri VIP, da Elon Musk a Bill Gates, da Barack Obama a Jeff Bezos. Sugli account delle vittime sono comparsi messaggi con l'offerta di raddoppiare i pagamenti inviati ai loro indirizzi bitcoin e l'indirizzo allegato ha ricevuto versamenti per 112 mila dollari nel giro di poche ore, anche se non è dato sapere se i soldi siano stati inviati da utenti ignari o dagli stessi pirati informatici. L'azienda ha aperto un'inchiesta interna perché la falla ai suoi sistemi è importante.